In questo video voglio farvi il riassunto degli ultimi due milioni di anni di evoluzione umana Mi sono fatto aiutare da esperti del settore per essere il più accurato possibile E come vedrete vi racconterò cosa sappiamo e su cosa c'è un dibattito scientifico aperto Credo che sia un video fondamentale perché noto un'enorme confusione quando si parla di temi legati all'evoluzione umana Anche e soprattutto qui su YouTube Perché è veramente difficile collocare nello spazio e nel tempo le varie specie e le loro relazioni di parentela Così come è fondamentale avere le proporzioni dei fenomeni temporali Ci sono delle cose che sono successe centomila anni fa Che è una quantità di tempo enorme ma è un decimo di un milione di anni fa E così via Proprio per evitare di aggiungere confusione vi prometto che faccio la ricostruzione più didascalica possibile Senza troppi fronzoli e quindi vi dirò caso per caso qual è la ricostruzione più quotata all'interno della comunità scientifica Così per esempio non parlerò mai di Omer Gaster che è un nome che sta cadendo in disuso E dato che sempre più autori lo considerano semplicemente come la forma africana di Homo erectus D'altro canto per non banalizzare troppo però vi dirò quando c'è un dibattito scientifico in atto su una certa questione Va bene? Cominciamo Questo video è sponsorizzato da Norvipn Rimanete fino in fondo per saperne di più Partiamo dall'Africa esattamente 2 milioni di anni fa E voi direte perché proprio 2 milioni? Eh perché a un certo punto dovevo scegliere un punto di partenza E 2 milioni mi piace proprio come punto Per vari motivi dopo vedrete E mi permette di fare un bel titolo Ormai sono passati più di 6 milioni di anni dalla presenza dell'antenato comune tra noi e i gorilla E più di 4 dalla divisione del ramo Austropithecus, Homo, Parantropus Che adesso vediamo è quello degli scimpanze e dei bonobo Esattamente questo momento è eccezionale per quanto riguarda la diversità degli ominidi Ci sono gli antenati dei gorilla da una parte Un altro ramo è composto dall'antenato comune di scimpanze e bonobo Che si stanno per dividere E nel nostro ramo ci sono un sacco di bestie strane Infatti in Africa si trovano diverse specie appartenenti a 3 generi diversi Ci sono gli ultimi Austropithecus I primi Homo e anche i Parantropus Questi ultimi sono probabilmente meno conosciuti Assomigliano almeno morfologicamente di più ad altre scimmie Come per esempio i gorilla E questo è probabilmente dovuto alla loro dieta E questo ha premiato una certa morfologia del volto In particolare del cranio e dei muscoli facciali Che appunto li faceva somigliare molto di più ai gorilla Momento dibattito In realtà a marzo di quest'anno è uscito un articolo Che in parte mette in dubbio che avessero una dieta così tanto somigliante a quella dei gorilla E quindi in realtà la questione è ancora abbastanza aperta Visto che l'Africa è enorme potreste aspettarvi che questi tre generi di ominini Vivessero in zone diverse dell'Africa E invece no Probabilmente vivevano anche abbastanza insieme nelle stesse aree geografiche Almeno questo vale per il Sudafrica Visto che è uscito uno studio nel 2020 In cui appunto si vedono che queste specie vivono più o meno nelle stesse aree ali E qualcosa di simile vale anche per l'est dell'Africa Questa conterraneità suggerisce che questi gruppi di ominini Fossero adattati a nicchie ecologiche Quindi anche diete diverse Questo è dato dal fatto che di solito in natura difficilmente due specie simili occupano la stessa nicchia Perché tendenzialmente una tende a estinguere l'altra Si chiama principio dell'esclusione competitiva Momento dibattito Ci sono diversi autori che tendono a non considerare i Paranthropus qualcosa di particolarmente diverso dagli Australopithecus E a considerarli appunto degli Australopithecus un po' più irrobustiti E più adatti a una vita simile a quella delle altre scimmie Quindi Homo, Paranthropus e Australopithecus sono tre rami E notate no che sto usando questo approccio Che è l'approccio che usano tutti i biologi dell'evoluzione, tutti i paleoantropologi E cioè appunto un ragionamento ad albero L'evoluzione funziona così L'evoluzione biologica non è come quella dei Pokémon Non è come Freezer in Dragon Ball che ha gli stadi evolutivi o quello che è Nel mondo scientifico questa cosa viene chiamata Tree Thinking Pensiero ad albero E vi invito ad approcciare tutte le questioni biologiche con questo pensiero alberoso Facciamo uno zoom sul genere Homo Quello a cui apparteniamo esattamente due milioni di anni fa c'era Homo habilis Che bazzicava sulla Terra da almeno mezzo milione di anni I primi Homo erectus e Homo rudolfensis Momento dibattito 1 Ma siamo veramente sicuri che Homo rudolfensis non sia semplicemente ascrivibile a Homo habilis E stiamo sottovalutando la variabilità individuale di questa specie A qualcosa che viene sostenuto da alcuni Momento dibattito 2 In questo periodo storico si sta anche forse rivalutando Homo habilis Che per alcuni sembra molto più simile ancora a molti Australopitechi Piuttosto che a Homo erectus Che si stacca veramente da un punto di vista morfologico Dalle specie diciamo che c'erano fino a quel momento Per questo dai concentriamoci su Homo erectus Che è la specie di cui abbiamo più certezze Sappiamo più cose Sarà la specie che ci accompagnerà più a lungo E anche in largo fino alla comparsa di Homo sapiens Homo erectus è probabilmente un discendente diretto di alcune popolazioni di Homo habilis O comunque di quella specie Qualsiasi nome gli vogliamo dare Entrambe queste specie utilizzavano degli utensili Scheggiando delle pietre Ma ben presto Homo erectus impara a elaborarle in modo molto più complesso Ottenendo delle pietre che vengono presto riconosciute come quelle della cultura acheuleana Homo erectus stando a studi recentissimi Sembra essere più antico di quanto si pensasse In particolare sono stati trovati dei reperti in Sudafrica e nell'est dell'Africa E forse anche in Asia Che fanno pensare che la sua origine fosse appunto in questo periodo Intorno a due milioni di anni fa Erano alti quasi quanto noi Erano più magri e slanciati delle specie precedenti Come varie specie di Australopithecus E avevano una scatola cranica in relazione al resto del corpo Significativamente più grande Anche se non ovviamente confrontabile alla nostra Si tratta di una specie con una grande adottabilità Arriva in tutta l'Africa Compresi gli altopiani dove prima non era mai stato nessuno E poi arriva in Asia Infatti arriviamo al primo grande evento di questa storia Homo erectus è la prima specie antropomorfa A fare la cosiddetta out of Africa L'uscita dall'Africa Qui però sono costretto a mettere un asterisco Lo metto in alto a destra del video E poi giuro, poi lo riprendo A un certo punto lo riprendo Nel giro di veramente poco Arriva in Cina, Indonesia, in altre parti dell'Asia E si porta i suoi strumenti con sé Ricordatevi, poco magari significa migliaia o decenni di migliaia di anni Quando parliamo di tempi così dilatati Pensate a quanto bisogna essere adattabile A livello comportamentale Per potersi adattare ad ambienti e climi così diversi Bisogna imparare a capire i nuovi pericoli Dei nuovi ambienti Imparare come ricavare il cibo E varie altre cose E poi trasmettere questa conoscenza Di generazione in generazione In quest'ottica vi invito a riflettere su un altro fatto Si tende ad appiattire Almeno nell'immaginario La diversità culturale delle specie del passato Eppure questa cosa è abbastanza poco sensata Nel momento che persino le orche Sappiamo avere culture diverse Che si tramandano tecniche di caccia diverse Quando pensate alle specie del passato Immaginatevi composte da popolazioni diverse Che non fanno tutti le stesse cose Non raccolgono le stesse cose Non cacciano Se cacciano le stesse cose Così ecco che probabilmente gli Homo erectus Che si trovavano negli altopiani dell'Etiopia Facevano cose completamente diverse Da quelli che si trovavano magari in Indonesia Non è chiaro se fin da subito Le popolazioni di Homo erectus Sapessero cacciare Molto probabilmente mangiava le carcasse Forse anche allontanando gli spazzini Si trovano le prime ipotetiche traccia Di cacciattiva a grandi mammiferi Intorno a 1,5 milioni di anni fa E poi più tardi In altre parti del mondo Tenendo sempre conto Che magari alcune popolazioni cacciavano E altre no E che poi c'è un'enormità di sfumature Tra mangiare bacche e carcasse E andare a caccia di bisonti Esiste anche il mangiarsi i pulcini dai nidi Andare a caccia di rettili e serpenti Con dei sassi ben assestati Magari si possono prendere degli uccelli O dei piccoli mammiferi E così via È una cosa sfumata ovviamente la caccia Arriviamo intorno a 1,4 milioni di anni fa Gli Australopithecus si sono già estinti E si stanno estinguendo gli ultimi Paranthropus Chissà se sono stati i nostri Antenati Ad estinguerli Oppure si sono estinti per conto loro Forse sta contribuendo l'inaridimento dell'Africa Che è un fenomeno che sta iniziando in questo periodo Però ecco In questo momento sta succedendo qualcosa di quasi unico Homo erectus È l'unica specie umana presente sulla Terra Però no Fermi 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 Facciamo così Metto un altro asterisco In alto a destra Questa volta lo metto blu Perché non si sa mai Parliamo di una specie che non è più identica a quella del passato L'evoluzione non si ferma mai Popolazioni diverse tendono ad adattarsi ad ambienti diversi E complessivamente si vedono dei macro trend Per esempio si vede un complessivo aumento delle dimensioni del cervello Avere cervelli più grandi è una cosa che tendenzialmente viene premiata Nonostante ovviamente porte ad avere un maggiore consumo calorico Non sappiamo quanto migrassero Quindi eventualmente anche quanto si rimescolassero Non abbiamo DNA antico purtroppo Però ecco stiamo comunque parlando di una specie che ha la tendenza a fare la cacciattiva Quindi correre un sacco E ha la tendenza come avete visto a spostarsi tanto Quindi è molto probabile che ci fossero dei rimescolamenti continui Delle popolazioni che si muovevano da una parte e dall'altra Non immaginatevi nulla di statico Intorno a 1,2 milioni di anni fa Ecco che succede qualcosa di bizzarro Infatti nella penisola iberica si trovano dei resti E degli strumenti appartenenti alla cultura acheuleana Che però compaiono in questo periodo Però si tratta di resti un po' particolari Sono sicuramente ominini Assomigliano per certi versi agli Erectus Però hanno dei tratti che li fanno anche assomigliare ai Sapiens Ai Neandertal Che però compariranno molto dopo Tra questi reperti c'è anche il cranio di un bambino Che assomiglia tantissimo al cranio medio dei Sapiens Ecco in realtà da ricerchi più recenti è probabilmente una femmina E un po' più grande di una semplice bambina Una ragazza Con l'idea che possono essere ritenuti dei nostri antenati Vengono chiamati Homo antecessor La cosa più curiosa è che non si trovano reperti Appartenenti alla cultura acheuleana In Europa Almeno nel centro Europa Capiamoci Nella Germania In tempi precedenti In tempi contemporanei Ma neanche in periodi successivi E questo è strano no? Perché cavolo la Germania Ma il centro Europa è una delle aree più studiate al mondo Possibili che non abbiamo mai trovato niente E quindi capite La parte curiosa diventa Questi come ci sono arrivati in Spagna Sono popolazioni arrivate dall'Europa molto tempo prima Di cui però non abbiamo tracce Qualcuno potrebbe dire Ma forse potrebbero essere arrivati via costa Per una cosiddetta tipo rotta balcanica In un periodo in cui la costa era molto più più bassa Ci sono dati periodi in cui ovviamente la costa era molto più bassa E poi con l'inalzamento del mare Tutti i reperti sono stati cancellati Notate bene che anche nei periodi in cui l'acqua è stata più bassa Lo stretto di Gibilterra e il canale di Sicilia Sicuramente non erano percorribili a piedi E neanche attraversabili a nuoto La cosa bella è questa però Se si ipotizza la rotta via mare Bisogna immaginare che avessero utilizzato almeno qualcosa Tipo delle zattere Cosa che tendenzialmente non si tende a fare Per ominini vissuti più di un milione di anni fa Attualmente c'è un dibattito aperto Se l'ipotesi che Oman antecesso sia un nostro antenato Sta vincendo più il no che sì Molto probabilmente è un ramo Che si è estinto in Europa E non ha lasciato nessun discendente E il fatto che alcuni individui Avessero dei tratti morfologici che li facessero assomigliare A dei sapiens Può essere tranquillamente considerato una convergenza evolutiva Poi scommessa mia Vedete che fra qualche anno Omo antecessor verrà inglobato dentro Omo erectus Come è successo a Omo ergaster E a Omo georgicus Così come scommetto che ci sono arrivati via mare Ma io non sono un cazzo di nessuno Riporto soltanto Siamo intorno a un milione di anni fa Da qualche parte nel mondo Probabilmente in Africa Una popolazione di erectus Più tozza Con una scatola cranica Un po' più sviluppata Probabilmente anche con delle capacità tecnologiche Più varie Sta cambiando Sta portando a quello che poi sarà il ramo Che porterà a noi Qui c'è sempre il problema dei nomi L'avete capito I biologi si divertono tantissimo A litigare sui nomi Sappiatelo Io vi riporto quello che è il nome più diffuso In questo momento Anche se ci sono delle critiche Anche se c'è un dibattito E delle proposte nuove Ad ogni modo questa popolazione poi porterà A un'altra specie Homo elderbergensis Fa un po' ridere pensare che in questo momento Chiamiamo una specie di origine africana Con il nome di una cittadina tedesca Ma tant'è Questo potrebbe essere uno dei vari motivi Per cui magari fra un po' si cambierà nome Homo elderbergensis Più o meno in questo momento Tra i 900 e gli 800 mila anni fa Non si trovano più tracce di Homo antecessor In Europa Probabilmente si è estinto Probabilmente in Africa La popolazione che poi porterà a noi Ha un enorme tracollo di popolazione O semplicemente un gruppo più piccolo Si divide Si separa Da un punto di vista riproduttivo Da tutti gli altri Recenti analisi genetiche Che però vanno prese con le pinze Ipotizzano che è più o meno in questo periodo Che c'è la famosa fusione robersoniana Che ci porta a avere 46 cromosomi A differenza di tutte le altre scimmie Se è vera questa ricostruzione Significa che probabilmente Homo erectus aveva 48 cromosomi So che questa cosa della fusione di cromosomi Molta gente fa fatica un po' a concepirla Se volete c'è un video molto approfondito In cui ne parlo di questa questione Vi racconto anche del fatto che In questo momento sulla Terra Ci sono persone con 44 cromosomi Che hanno avuto una fusione robersoniana Come è successo a noi in passato Sempre in questo periodo in Asia Si vedono altre ondate di Homo erectus E appunto ricordatevi C'è sempre questa cosa della dinamicità Nulla sta fermo Ah sì e tra parentesi Homo erectus continua a esserci Non è che si è estinto Non è che se un gruppo di Homo erectus Diventa Homo elderbergensis Homo erectus si estingue Rimangono delle popolzioni di Homo erectus L'evoluzione funziona così Più o meno in questo periodo Si vedono le prime tracce Dell'uso continuativo del fuoco Ed è forse questo Che aiuta Homo elderbergensis A compiere il suo Out of Africa Un milione di anni dopo Homo erectus Infatti nel giro di poco Diventa l'altra specie Ad aver conquistato tre continenti Homo elderbergensis Ben presto è spalmato in Eurasia E in Africa E intorno a 650 mila anni fa Ci sono i dati genetici Che lo attestano Queste popolazioni soprattutto Iniziano a dividersi abbastanza Inizia a esserci quella divisione Che poi in Africa porterà a noi A Homo sapiens In Eurasia Ai denisova E ai neandertal Per ora noi non sappiamo Chiaramente che capacità cognitive Avessero questi elderbergensis Cosa sapevano costruire Cosa non sapevano costruire Sappiamo che però le specie Che ne sono poi discese Noi e i neandertal Siamo ed erano Particolarmente sveglie Questo forse potrebbe informarci qualcosa Su di loro Su quanti fossero svegli Quest'elderbergensis Ma per ora se ne sa abbastanza poco 200 mila anni dopo Questa grande divisione Quindi appunto Africa Eurasia Ecco che inizia a esserci Una divisione Anche all'interno dell'Eurasia Gli Homo elderbergensis Dell'Eurasia Iniziano anche loro A diversificarsi In particolare in quelli che si trovano nell'Ovest Dell'Eurasia Quindi Europa e Ovest Asia E quelli che si trovano nel resto dell'Asia I primi diventeranno i Neandertal I secondi i Denisova Non sappiamo molto di Denisova Non sappiamo esattamente come fossero fatti Non abbiamo ossa Se non pochissime Però abbiamo il DNA E dal DNA per esempio Sappiamo che intorno a 40-50 mila anni fa Erano divisi in popolazioni ben isolate tra loro Da centinaia di migliaia di anni Quindi probabilmente subito dopo la divisione con i Neandertal Le loro popolazioni si sono ben divise in posti diversi dell'Asia Questa forte divisione insieme ad altre tracce genetiche Fanno persino pensare che i Denisova potessero essere divisi in diverse isole Del sud-est asiatico e dell'Oceania Oppure che fossero semplicemente spalmati in diverse parti dell'Asia D'altorno del continente asiatico enorme Sappiamo che molto probabilmente ci sono delle popolazioni adattate all'altitudine Forse dell'Himalaya Perché uno dei geni che ha permesso alla nostra specie di adattarsi in quegli ambienti L'abbiamo preso dai Denisova In tutto questo probabilmente i Denisova convivevano in qualche parte dell'Asia Con gli Erectus che c'erano ancora E anzi forse Erectus e Denisova si sono anche accoppiati Infatti dentro al genoma dei Denisova sembrano esserci delle tracce genetiche Appartenenti a un'altra specie umana Molto più divisa rispetto a noi o ai Neandertal E dato che gli Erectus erano lì Sono tendenzialmente i primi indiziati Però, fermi tutti, si sta riaprendo proprio il dibattito su questo Quindi aspettiamo un po' ancora a raccontarla bene questa storia Che se è così è una figata Dai dati che vediamo possiamo dire che la diversità genetica dei Neandertal Forse è molto più rarefatta rispetto a quella dei Denisova E questo potrebbe dirci anche qualcosa su come erano distribuiti Forse i Denisova avevano anche areali più ampi O erano in di più Arriviamo a 300.000 anni fa Siamo a un settimo del nostro percorso E possiamo iniziare a parlare di Homo sapiens Infatti le popolazioni africane di Homo elderbergensi Si stanno modificando talmente tanto Che a livello anatomico possiamo praticamente riconoscere gli umani Anatomicamente moderni Ma ecco che qui arrivano due sorprese Per una mi riprendo l'asterisco blu Quello in cui dicevo che Homo erectus intorno a 1,4 milioni di anni fa Rimane l'unica specie sulla Terra Perché succede qualcosa di strano Intorno a 300.000 anni fa troviamo delle tracce Delle tracce abbastanza forti Che fanno pensare che ci fosse un'altra specie umana 300.000 anni fa Poi arrivo al discorso di Homo erectus Infatti in una grotta del Sudafrica Si trova una bestia strana È Homo naledi Stiamo parlando di un uomo Tanto è stato chiamato Homo Ma che ha della diversità morfologica rispetto a noi veramente enorme Ha dei tratti morfologici tipo nel piede Che lo fanno assomigliare molto a un Austroopithecus E altri più appunto a un uomo E quindi ovviamente è un casino È un mosaico di diversità Eppure capite Si tratta di una specie recentissima 300.000 anni fa Da chi viene? Da dove viene? Chi sono i suoi antenati? Da dove si è diversificato? Da Homo erectus? Da prima? La spiegazione più sensata è che ci fosse almeno un'altra specie O anche più specie Magari nelle foreste Di cui ci siamo persi una parte enorme della storia Perché magari non abbiamo scavato lì Ma abbiamo scavato in Sudafrica E nell'est Chissà Boh magari nelle foreste del Congo C'erano degli ominini Abbastanza uomini Però un po' Che vivevano un po' stramboide E basta E poi a un certo punto qualcuno di loro è arrivato in Sudafrica Che c'è morto in una grotta Pazzesco no? Di più non si può dire molto eh Di Uomo una Lady Ma arriviamo alla seconda sorpresa Tra i 300 e i 200.000 anni fa È successo qualcosa di particolare Lo vediamo dal DNA dei Neandertal Infatti quasi tutto il DNA dei Neandertal È molto simile A quello dei Deniso D'altronde ha senso no? Si sono separati poco fa In un certo senso Ma ci sono due elementi all'interno dei Neandertal Che sono invece molto più simili ai nostri Sono Sapiens Il mitocondrio E il cromosoma Y A questi dati sembra esserci un'unica spiegazione I Neandertal e i Sapiens Dai 200.000 ai 300.000 anni fa Si sono accoppiati da qualche parte E noi gli abbiamo dato Il nostro mitocondrio E il nostro cromosoma Y Che probabilmente erano molto migliori di loro E questi sono diffusi all'interno della loro popolazione Sostituendo completamente tutti i mitocondri E i cromosoma Y dei Neandertal Ma questo significa una cosa Che probabilmente Ci sono stati dei gruppi di Sapiens Che hanno fatto l'auto of Africa Più di 200.000 anni fa O che in qualche modo Si sono trovati a metà strada Magari in Nord Africa Alcuni Sapiens Alcuni Neandertal Questa precocissima uscita dall'Africa Sembra essere anche avvallata Da altri ritrovamenti In particolare Pochi anni fa In Grecia È stato trovato Un cranio Nominato Apidima 1 Che sembra veramente molto Sapiens Ma come potete immaginare Anche qui c'è un forte dibattito In questo momento Qualcosa di simile A quella divisione In grandi popolazioni Che abbiamo visto nei Diniswa Avviene anche nei Sapiens Che intorno a 250.000 anni fa Iniziano a dividersi In tre sottogruppi Gli abitanti del Ovest dell'Africa Del Sudafrica E dell'Est Africa Divisione che si vede ancora A livello genetico Nelle popolazioni che non sono state rimescolate Dall'arrivo dell'agricoltura Arriviamo nel periodo Che va da 120 100.000 anni fa E salutiamo gli Erectus Nel senso che Gli Erectus Propriamente detti Si stanno estinguendo In Asia Chissà se per sfiga O per mano di Diniswa O anche di alcuni Sapiens Si estingue questa specie Che è la più duratura All'interno del nostro albero Chissà Se noi riusciremo a vivere Quasi 2 milioni di anni E con questi ultimi morti Tristi Da qualche parte nell'Asia O nel sud-est asiatico Salutiamo gli Erectus Eppure ecco Si trova qualcosa di strano Nelle isole dell'Indonesia E delle Filippine Dei piccoli uomini Dei Homo floresiensis E Homo luzonensis Degli ominini Particolarmente piccoli Che non si capisce bene Esattamente Che cosa siano Anche qui Oltre alla stranezza Della statura Ci sono anche Dei tratti morfologici Che fanno pensare Che avessero una vita Adattata anche A salire sugli alberi Tipo Dei tratti Dei piedi Quale sicuramente Si tratta di specie Miniaturizzate È un fenomeno Che si conosce Abbastanza tipico Delle isole Ma la domanda Ovviamente È chiara no? Da dove vengono? Chi si è Miniaturizzato? L'ipotesi più Accreditata è che Si tratti di Erectus Appunto Isolati in Queste grandi isole E che poi però Appunto Sono cambiati Magari in centinaia Di migliaia di anni C'è anche l'ipotesi Che si tratti di Denisova Miniaturizzate Però è molto meno Probabile Ecco Per motivi morfologici Ci sono poi Degli autori Che hanno Una terza ipotesi Veramente forte E cioè Che in realtà Siano i discendenti Di specie Ancora più antiche Come magari Delle australopitecine Che sono uscite Dall'Africa Ben prima Di Homo Erectus E per questo Ovviamente Mi prendo L'asterisco L'asterisco è questo Se per caso Delle specie Prima di Homo Erectus Sono uscite Dall'Africa prima Homo Erectus Non è stata La prima specie Uscita dall'Africa Però è veramente Molto poco probabile Che sia successo Ecco che siamo A 90.000 anni fa In questo momento Succede un'altra cosa In Siberia Nel centro dell'Asia Nella grotta Di Denisova Viene trovato L'osso Che corrisponde A un ibrido Di prima generazione Tra Neandertal E Denisova Danny Così verrà chiamata È una femmina Ed è la prova Insieme a tante altre Che poi arrivano A livello genetico Che Neandertal E Denisova Si incontrassero E si riproducessero Insieme Tanto che c'è stato Uno scambio genetico Da entrambe le parti Un'altra cosa Che più o meno Succede in questo momento È che in Medio Oriente Intorno a 100 120 mila anni fa Si trovano già Dei resti di Sapiens Si tratta di Essere umani Homo sapiens Che sono usciti Dall'Africa Mostrando appunto Che questa cosa Dell'uscita dall'Africa In realtà Probabilmente è successa Più volte Che però Non lasceranno Discendenti Che poi arriveranno A noi Non erano I nostri antenati Questo potrebbe Colpire qualcuno Ma in realtà È un fatto Assodato In ambito di genetica E di popolazione La maggior parte Degli individui E delle popolazioni Sul lungo andare Non lasciano discendenti Siamo quasi tutti Dei vicoli Ciechi Evolutivi Rassicurante Arriviamo a circa 65 mila anni fa Un gruppo di est Africani Fa il suo Auto of Africa E loro sono I nostri parenti Loro sì E qui c'è un piccolo Buco nella storia Perché non è che vanno Subito a conquistare Tutto il mondo Ma stanno isolati Da qualche parte Che non si sa bene ancora Dove sia In India In Iran In Medio Oriente In qualche punto specifico Non si sa Fatto sta che questi individui In un lasso di tempo Abbastanza ampio Circa 20 mila anni In cui appunto Non si sa dove sono Sappiamo però Che si accoppiano Con i Neandertal Una, due volte Un sacco di volte Chissà quante volte Fatto sta che inglobano Una parte del loro DNA Circa un 2% a testa Complessivamente Dopo qualche generazione Ed ecco quindi Che 40 mila anni fa Inizia questa espansione Che arriva in praticamente Tutto il mondo In Europa In tutta l'Asia Poi anche in Oceania E alla fine Stando ai dati genetici Anche nelle Americhe Intorno a 20 mila anni fa Dico stando ai dati genetici Perché forse Ci sono delle tracce Che fanno pensare Che dei vicoli ciechi Siano arrivati prima In America Però appunto Quella è un'altra storia Queste popolazioni di sapiens In Asia E o in Oceania Si accoppiano Anche con i Denisova Nel giro di qualche decenni Miglia di anni Si estinguono L'uomo di Flores Neandertal Denisova E diverse specie Di mammiferi E uccelli Di grandi dimensioni Non si sanno esattamente Tutte le concause Di questa sparizione Della macrofauna Ma c'è di grosso Il nostro zampino Homo sapiens rimane L'unica specie umana Sulla terra Addomestichiamo i cani E forse Non necessariamente In questo ordine Siamo intorno A 20 mila anni fa Da adesso in poi Le popolazioni di sapiens In varie parti del mondo Tendono a crescere Forse grazie A un riscaldamento complessivo Dopo l'ultimo Massimo glaciale O forse Perché diventavamo Sempre più bravi Ad estrarre risorse Dai vari ambienti Più o meno Intorno a 12 mila anni fa Poi dipende da parte E parte del mondo Si impara mano a mano A coltivare e a selezionare le piante E questo porta ad un'accelerazione Della crescita di popolazione In quelle popolazioni che coltivano E dopo qualche millennio Ecco che addomestichiamo Anche altri animali Oltre al cane Che avevamo già Addomesticato da mo Più o meno A metà di questo tempo Vengono costruite le piramidi Più o meno dopo Nascono le principali religioni Che sono credute Della maggior parte Della popolazione Sulla terra Ed ecco che arriva L'ultimo evento rilevante Almeno da un punto di vista geografico Homo sapiens Per la prima volta Arriva in Madagascar Il resto Un ringraziamento Alle persone che mi hanno dato Degli spunti O dei consigli Per migliorare questo video Quindi grazie Luca Pagani Professore dell'Università di Padova Ed Andra Meneganzin Ricercatrice su questi argomenti E un ringraziamento Anche da Alice Testa E Giulia Dalmonte Che studiano questi argomenti E hanno dato un'occhiata A questo script Vorrei fare un sacco di riflessioni Su tutto quello che vi ho raccontato Ma lo faremo in futuro In altri video In cui parleremo di questi argomenti Vi consiglio di riguardarlo Questo video Fra una settimana Fra un mese In modo da ripassare Questi argomenti Perché veramente E si parte da qui Per fare poi degli approfondimenti Su alcune cose specifiche Ma ora come vi avevo promesso Vi parlo dello sponsor Che è NordVPN NordVPN probabilmente lo sapete È un servizio Che vi permette di avere una VPN Cioè una rete privata virtuale Che vi permette di accedere ad internet Attraverso appunto i loro server In modo che la vostra attività Sia anonymizzata E soprattutto che possiate Cambiare la geolocalizzazione Questo è particolarmente comodo Quando vi associate da reti pubbliche D'altro canto è comodo Quando siete in viaggio E volete usare servizi italiani Che magari in quello stato Non sono permessi O viceversa Quando siete in Italia E volete usufruire Di servizi esteri Siamo a novembre È mese del Black Friday E fino al 29 novembre C'è un'opportunità in più Se acquistate i piani biennali Come sempre avete il mio codice sconto Che vi permette di avere Degli sconti abbondanti Ma se usufruite del piano PLUS Oltre a NordVPN Potete avere anche NordPass NordPass è un gestore di password Che quindi appunto vi permette Di gestire le password Generarne di nuove Continuare a cambiarle E questo vi permette ovviamente Di avere una situazione Molto più tranquilla Sul vostro computer Perché uno dei problemi principali Con il computer È che la gente tende a fare Cazzate con le password Quindi usate il mio codice sconto Per avere un prezzo esclusivo Più 4 mesi gratuiti Sui piani biennali E poi vi ricordo Che c'è anche NordPass Se usufruite del piano PLUS Con questo io vi saluto Ciao a tutti quanti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti